ciao ragazze si finalmente siamo tornati con un nuovo video e scusate se siamo spariti ma le giornate sono davvero impegnative con questo marmocchio qui adesso vero lavoro il marmocchio che vuole andare via con la moto con la macchina ciao allora noi ci siamo appena svegliati oggi è lunedì 27 ottobre ne sto approfittando per filmare non perché oggi abbia trovato più ha avuto più tempo abbia trovato più tempo abbia avuto trovato vabbè è semplicemente perché stamattina dovevo andare a lavorare però purtroppo il mio titolare poverino non sta non sta bene e quindi siamo a casa oggi dobbiamo fare un mucchio di cose alessandro farà il bravo vero oggi è vero che fai bravo come no come no ehi non fai bravo oggi con chi gli occhi gli da furbo ora che la mamma deve stirare oggi quindi sì siccome continuate a chiedermi che fine ho fatto i blog i blog i blog ho deciso di prendere in mano la telecamera stamattina e accontentarmi appunto ci diamo tanti bacchi buongiorno patetina contattiamo la mamma facciamo collezione di ciao a tutti che facciamo collezione ciao ciao si è degnata di raggiungerci anche la durina come stai amore dovete sapere che purtroppo in dire è stata anche poco bene ha avuto l'influenza ha avuto l'influenza e alessandro la prende in giro vero la prende in giro perché aveva la tosse lui la prende in giro si è pronto guarda che brutta zenzana ti ha fatto ti ha appunto amore la zenzana e te stai bene stamattina dalle puzzette che hai fatto non si direbbe tanto ecco prende no prende in giro no prende in giro poverina vuoi un biscotto? vuoi un biscotto? adesso lo do allora ragazzi non so se è una scoperta dell'acqua calda ma se qualcuno di voi non lo sa si guardate in che condizioni è poverina il mio brucio essenza della yankee candle devo buttarlo a lavare solo che lo utilizzo e lo strautilizzo tutti i giorni quindi non riesco mai a lavarlo comunque premessa a parte non so se la mia è una scoperta dell'acqua calda ma per togliere l'eccesso di tart quando volete cambiare appunto il tipo di tart io ho scoperto che mettendo in freezer la vaschettina qui con la tarta dentro 15 minuti e tirandola fuori viene via da sola praticamente dopo ve lo faccio vedere intanto adesso la metto in freezer perché voglio appunto accenderla no ma l'avete visto? avete visto alessandro quando parte calimero? tra l'altro ragazze dovete sapere che questa è la mia suoneria quando mi chiama Manuel perché se per caso perché se per caso non sento il telefono se per caso non sento il telefono vedo Alessandro che comincia a ballare quindi mi accorgo che è Manuel che mi chiama e ieri ero dentro da chi quando è partita la suoneria potete immaginare la gente che c'era dentro cosa avrà pensato cosa c'è? vuoi ancora cocodense? vuoi cocodense? vuoi cocodense? tirami giù un'altra volta dopo basta però che dobbiamo fare tante cose vuoi piace sono passati i 15 minuti che vi dicevo e adesso basta far così e come vedete in due secondi togliete la tarta questa potete tenerla e riutilizzarla un'altra volta fino appunto a scioglierla del tutto ma io di solito quando ne ho poca così la butto perché ha perso ha perso un pochino di intensità il profumo sono un po delle mie tarte non so neanche cosa mettere su no questa con le margheretti ecco quello che avevo su era questa della simply home yankee candle penso un'altra linea o un tarocco non lo so cosa mettiamo oggi in questa missa da sera questa sera questo no questa sa troppo è troppo forte vorrei accendere vanilla cupcake ma voglio tenerlo per le giornate proprio d'inverno ma questa ragazze questa è buonissima mi piace un sacco accendiamo accendiamo questa anche questa buonissima novembre mi sa che adesso accendiamo citrus tango no anche questa questa della simply yankee candle simply home che non so se è un tarocco cosa vi ripeto alla anguria è buonissima mi piace un sacco adesso accendiamo margarita time yes è mezzogiorno e siamo ancora in pigiama vuoi spiegare tu come mai lo vuoi spiegare tu come mai perché 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 ho fatto le minne e adesso mi sono svegliato brontolando perché c'ho fame e sono ancora in pigiama brutto vergognoso cosa fai ancora in pigiama quanto dormi quanto dormi quanto dormi eh si adesso la mamma 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 ti ha messo sulla pappa insomma mangi di cuorosini con la passata di pomodoro e l'olio che mi piace ne tanto a me ma da 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 dove stai andando dove stai andando dove stai andando testone no le mani in bocca no spettila tira via ho le mani in bocca tira via le mani non si mettono le mani in bocca dopo devi portarla parecchio se metti le mani in bocca dai montacchione ancora mangi non sei pieno eh e sono ancora amore ma quanto dormi papà papà ma te vieni a casa a mangiare? ma vi viene a casa presto ma va bene ok non si attacca bene ragazzi sono a buon punto con il cambio stagione fuocami oh sono a buon punto con il cambio stagione nel senso che purtroppo la roba che mi va bene è poca e quindi si sono messa abbastanza bene tanto Alessandro si è riattormentato ve lo faccio vedere ai che cazino per terra non si attacca bene adesso vado avanti perché se non qua va a finire come l'anno scorso che ci ho messo tre settimane cos'è che hai? cos'hai da gridare come una quaglia? eh? ma no ma sei matto ma smettila di battere la testa salame basta Ale e allora? lo chef stasera propone melanzanele parmigiana non c'è una è una è lì metto via le spese lo vado va luvito guarda la mamma adesso lo apro un attimo eccoci aspettatelo da la mamma dopo ti vengono fuori i bruci vediamo cosa c'è dentro qua aspetta che vediamo questo è per me cosa c'è qua cos'è sta cosa ecco non sta fermo aspetta che vediamo cos'è eccoci tieni questo il paracatutto il paracatutto cos'è sta roba non è un paracatutto amore cos'è? un frisbee un paracatutto è un frisbee mo' cabello adesso papà te lo monta no questo serve a papà però e dove va anche questo? ma viti che bello mangi anche tu le melanzane stasera mangi anche tu le melanzane le parmigia ma quanto mangi? dai che diventi un bambino ciccione sono bello sono bellissimo ecco la prima melanzane la parmigiana dello chef Manuelito c'è un profumino qui è buona la melanzane la melanzana la parmigiana la melanzana mmm ma che bontà no mettere le mani in bocca buon appetito ma si ma si ho detto perché poi nonostante si può pensare che io sia una persona superficiale tutta trucco tutta unghie quella e quella eccoci guardate i pigiamini ti guardate i pigiamini ciao a tutti ciao a tutti noi adesso beviamo latte guardiamo burlesque e dormiamo nel limano ahiale ma perché mi picchi eh no che dopo non ci vedo più no lascia stare gli occhiali della mamma cosa fai no no molla lì molla gli occhiali ti ho già detto che non ci vedo più se mi togli gli occhiali cos'hai oggi eh ah mamma aia ciao vieni a giocare con me e i miei amici dai vieni a giocare con me e i miei amici vieni a giocare con me e i miei amici ah ciao hai visto la mamma è già posto per Halloween la mamma è già posto per Halloween la mamma smetti smetti molla gli occhiali smetti molla gli occhiali questa è ora è lo smetti grazie era Britta peste dice aha perché dai le botte le mamma hai detto un po' oh 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 bui dalle un bacino non farmi male diciamo ciao a tutti ciao